E' appena arrivato, noi avevamo invitato anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, il quale molto sensibilmente, molto gentilmente mi ha inviato all'ingegner Luciani e a Eustema un messaggio che io vi leggo subito. Carissimi, vi ringrazio molto per l'invito a questa iniziativa dedicata a un grande tema di sviluppo come la crescita digitale. A causa di impegni istituzionali precedentemente presi, purtroppo non potrò essere con voi. Desidero tuttavia portare il saluto della regione Lazio, agli organizzatori e a tutti coloro che si confronteranno su questo fronte di innovazione con decisivo impegno per il nostro futuro. Fin dall'inizio dell'esperienza di governo del Lazio abbiamo considerato la crescita digitale non come un'opzione ma come una condizione indispensabile di sviluppo e democrazia. Internet e la dimensione digitale stanno cambiando radicalmente l'economia, la società, la politica. La competitività di un sistema territoriale oggi dipende dal suo grado di digitalizzazione. La stessa efficienza e trasparenza delle amministrazioni e la loro capacità di dialogo con i cittadini ha nella crescita digitale un impulso determinante. Per questo abbiamo lanciato il grande progetto complessivo dell'agenda digitale del Lazio, un piano di crescita digitale che abbiamo presentato nelle sue linee guida questo giugno e che realizzeremo con il supporto di tutti gli attori in campo. Confido molto nelle idee e nei suggerimenti che potranno scaturire dall'evento IT come Italia, come far ripartire l'Italia, promosso da Eustema e vi invito quindi a partecipare alla costruzione di questo percorso e a trasferirci le idee proposte utilizzando le forme di partecipazione che potete trovare anche sul sito lasiodigitale.it. Buon lavoro Nicola Zingaretti. Ringraziamo il Presidente della Regione Lazio. Ringraziamo il Presidente della Regione Lazio.